Con il numero 1, Tessa US, Alessandro Lezzo, con il 2, Torcili, Lucio Becchetti, con il 3, Tiger Del Colle, Romolo Sani, con il 4, Tinta Weisel, Daniele Cuglini, con il 5, Tresor La, Giustino Panico, con il 6, Trotto Lascò, Gian Maria, con il 7, Twitter Gifar, Raffaele Forino, Seconda fila per l'8, Tarita, Giuseppe Pistone, il 9, Tibullo Abi, Giorgio Alessandro Junior, il 10, TADL, Alessandro Marucci, l'11, Tempo Record, Gian Paolo Minucci Cavalli che stanno completando l'allineamento discosto dall'ala Twitter Gifar, che si avvia con quelli della seconda fila Anche in terza Macchina che va per lasciare i concorrenti Allo stacco è veloce, Tiger Del Colle per linee interne, ma con all'esterno Tinta Wise L che lo sopravanza E si insedia al comando, Tinta Wise con all'esterno Tresor LA Alla corda Tiger Del Colle, terza corsia per Trotto Lascò Quando si va adesso a completare la piegata che vede sempre al comando Tinta Wise L per i primi 400 metri di corsa, percorsi in un buon 30 netti All'esterno avanza ora con il numero 5 Tresor LA che si insedia a sua volta al comando Quando sono trascorsi ormai i 500 metri si va per i 600 in 45 scarsi Tresor al comando per linee esterne agisce sempre Trotto Lascò Alla corda invece in seconda posizione Tinta Wise L che precede a sua volta Tiger Del Colle E quindi il numero 1 Tessa US si va adesso di fronte con posizioni che per il momento Non mutano sempre al comando Tresor LA Incalzato però da Tinta Wise L il chilometro in 1'15'7 per il leader Quando siamo adesso agli ultimi 500 di corsa con Tinta Wise che insegue ancora Tresor LA Lo affianca lungo la piegata nel tentativo di portarsi all'attacco Poi si fa vedere anche Tessa US che è scoperta all'esterno Addirittura d'arrivo che vede ancora al comando Il numero 5 di Tresor LA che cerca di divincolarsi dall'attacco di Tinta Wise L Tinta che va decisa a questo punto sulla battistrada Tinta Wise che attacca e passa Tinta Wise che ora deve gestire gli ultimi metri di corsa Tinta Wise che nel finale viene ad avere la meglio Mentre per il secondo posto emerge probabilmente il numero 9 Tibullo Abia Andiamo a vedere con gli ultimi metri che vedono Tinta Wise L Che viene a concludere a media di 2'1'9 Il numero 4 quindi sul primo posto Mentre sono molto vicini per il secondo Nel numero 5 Tresor LA che dovrebbe essere riuscito in ogni caso a mantenere la seconda posizione Per il terzo ci sono in lotta ancora il 3 di Tiger del Colle Il 9 di Tibullo Abia Ma intanto le prime due posizioni sono 4 al primo Il 5 al secondo Mentre per il terzo dovrebbe essere proprio il numero 9 di Tibullo Abia 2'1'8 Tinta Wise che non si può essere riuscito in ogni caso a mantenere la seconda posizione Per il terzo dovrebbe essere riuscito in ogni caso a mantenere il numero 10 di